Ci stai pigliando in giro? Solo ti stai pigliando in giro? Non a me? Prego. O stai pigliando in giro a sta gente che sta qua? Non a me? Prego. Allora io, prima i cinque minuti che mi concede e la ringrazio, ritorno ancora su quell'argomento famoso, no? E ve lo leggo oggi, sono cinque minuti, due e tre minuti ve lo leggo. Non avrai mai pensato di difendere un mio nemico, ma nel momento di difficoltà bisogna mettere da parte i rancori e stare vicino alle persone che hanno bisogno di aiuto e di solidarietà. Parole che potarsi qui non si conoscono, no? Credo, Sindaco, che prima di iniziare questo desiderato Consiglio Comunale le sia sfuggito una cosa molto grave, che i giornali hanno riportato come notizia giudiziaria riguardando il suo partito, il PD, e la sua amministrazione, che oggi è la continuità della precedente, che gli stessi partiti e gli stessi uomini stanno oggi. Penso che, forse, Sindaco, è il caso, dopo 12 anni di gestione PD, che blocchi un attimino la macchina del Comune. Una cosa molto grave, che già aspetta, scusatemi. Allora, blocchi un attimo la macchina del Comune e faccia un tagliando che ci consente di capire il ruolo che ha avuto il suo partito, PD, in questa squallida vicenda giudiziaria. Non dimentichi che voi eravate tutti in giunta nella passata amministrazione. Qui c'è stata... è una cosa grave. Prima era la Sangalli di Monza, oggi hanno preso qua. Hanno preso un vostro amico, anche mio amico, ma l'hanno preso. Allora significa che lei, Sindaco, ci deve dare qualche spiegazione. Non può coprire tutto a fiori i tarallucci. No, ci deve dare una spiegazione. Perché la gente vuole sapere, ma noi, consiglieri, vogliamo sapere per rispondere alla gente. Questi fatti di mala gestione del Comune di Ferentino potrebbero essere considerati come la voce di colui che grida nel deserto, di evangelica memoria a giudicare da quello che sta succedendo proprio in questo ente, con la gestione preeminente del suo PD. Rimanendo nell'ambito evangelico, Sindaco, alcuni di questi personaggi, che ancora oggi siedono in quest'Aula, sono diventati tutti come San Pietro, quando il Cristo gli anticipò che nella stessa notte lo avrebbero rinnegato tre volte. Questo sta avvenendo anche a Ferentino nei confronti di ex amici che ora si trovano in difficoltà giudiziaria, anche se questa persona scendesse ora dal cielo. Quindi è diventato, non lo so, potarsi che viene da... No, è un extraterrestre potarsi. È diventato un extraterrestre. Oggi tutti rinnegano tutti. Chi è? Che cosa ha fatto? Chi lo conosce? Io non ci ho mai parlato, forse è straniero. Signori, quella persona è amica vostra, da circa 40 anni, e ha amministrato insieme a voi circa 20 anni con più sindaci nello stesso partito, ora PD. Sindaco, come è strana la vita fino a ieri. Avete deciso insieme le sorti di questo Paese. Ora fate finta di non conoscerlo a causa degli accertamenti della magistratura. Voi assessori, sindaci, capigruppo e consiglieri attuali del PD forse dimenticate che questa persona vi ha fatto vincere le elezioni comunali. Allora era amico di lista, di partito, di persona. Vi ha sempre programmato la vita amministrativa, feste, ricevimenti, donazioni personali ed altro. È grave dirlo, però è la verità. Perché lo sanno tutti, non è quello che lo sa Gianni Venerdino. Alcuni di voi hanno dimenticato quando veniva sfruttato per realizzare le costruzioni di alloggi. dimenticate che la gestione del cimitero gli è stata affidata da voi anche per accontentare qualche grande elettore sempre del serato PD. Dimenticate che era lui ad organizzare cene e cenette, riunioni e assemblee per voi tutti. Allora era un grande amico e un grande elettore del PD. Ora mi dispiace dirlo, è come il ladrone sopra la croce che prima di morire si confessò al Cristo e gli ha tutti i suoi peccati e i suoi complici. Mi auguro, come ha promesso di imitare il ladrone, questo succeda fra poco. Così questa città risorgerà dall'immondizia che è avvenuta a accumulare in tutti questi anni di gestione PD. Infine, dimenticate che questa persona è la stessa che vi siete portati a Parma per iniziare quel fallimentare della stu. Dimenticate che questa persona è stata un artefice insieme a voi assessori per la concessione delle farmacie comunali. Dimenticate che tutti i rapporti esterni del Comune li effettuava questa persona a nome vostro. In conclusione, dimenticate che tutto quello che ha fatto questa persona non poteva non saperlo. Non potevate non saperlo, anche perché lo sapeva tutto il Paese. Forse voi avevate le orecchie otturate dal cerume o forse perché siete diventati tutti siciliani. Non saccio, non vedo, non parlo. Questo PD locale. Quando servi per la causa sei un Dio, ma quando vai in disgrazia sei un deportato o uno sconosciuto. Il tempo darà ragione a quelle persone e ho terminato. Che oggi avete isolato e che vivrà, vedrà. Chi è senza peccato scaglie la prima pietra. E ho chiuso e ti ringrazio, Presidente. Perché era il mio dovere dirlo perché purtroppo quando ci stanno i scandali non se ne parla di nostro Paese, di nostra amministrazione. Grazie. Grazie, benissimo.